Qua cosa? Qua ti ho urlato no? Sì, sì Ecco Vic Mi sono trasformato, sono diventata razzista, hai capito? Ma Che cos'è? Non penso sia un'ottima trasformazione, lo sai? Allora, senti, a te non ti piacciono i pesci, quindi le razze No, sì, certo, a me tutto il pesce mi piace, pure il tuo Allora beccati questo Quindi vabbè, c'è Franzo, Vic, tu Rage Sarà Gianco, c'è Smuso Ah, ma c'è Nova Ragazzi, fine della serie Eh, finisce qui, mi dispiace Ragazzi, devo dire che è successa una cosa molto strana E ho sentito una musica E mi sono No, sono Yamogus E' colpa di Yamogus, dici? Questo non c'era prima Ma c'era quando sono entrato C'era quando sono entrato, giuro No, 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 raga Lo risento Che cos'è? No Picchia lì, picchia lì Raga, l'è dietro Ma stava cancellando la roba dove ero sopra Aiuto, sono morto, sono morto, sono morto Ragazzi, ma che cos'è questo mondo? Oh, Dio E me? E me? Io voglio qui No, io chiudo Io chiudo Io chiudo Io chiudo No, io chiudo No, no, no No, 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 no No, fanculo Sta arrivando, sta arrivando No, raga, io non ci sto No, io non ci sto Ragazzi, aiutatemi Aiutatemi, ragazzi Raga, mi è partito tipo un jumpscare assurdo, raga Quanto era jumpscare da una jumpscare? So cascato dalla sedia Mannaggia a tutti Mi sono fatto pure malissimo Questo succede perché non è una sedia da gaming Ma come? No, raga, che c'è, vabbè Mi stanno rubando gli alieni Mi stanno rubando gli alieni Mi hanno rubato gli alieni Oh? No, per favore, lasciami in parte No, per favore Per favore Ma sono appena entrato Mi piazzi l'acqua, Regi, per favore? Grazie Sono stato bravo, vero? Sì, è stato brevissimo Grazie mille, grazie Mi hai fatto i pastelli e inizi a colorare Sì, che belli i pastelli, i colori Ah, carino, carino L'hai sentito? Oh No, Regi Vi dico, vi dico, vi dico, vi dico Vi dico, vi dico No, 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 no Basta Tutto il resto dentro il magazzino Finito il mio lavoro Il presidente Si è bloccato? Si sa che ti aveva preso una cosa Qua Ti ha urlato, no? Sì, sì Ecco Esattamente questo Io ti devo mettere una canzone Sì Ci sei? Sì Sei pronto? Prontissimo Oh Oh baby Yeah Ma? Francesco Totti Francesco Totti Francesco Totti Francesco Totti Francesco Totti Andiamo nel nether Muso, muso, sta per battere, sta per battere Vai, vai, vai Servizio Eccolo qua Oh, attento Oddio, intromissione Dai, prendile Quanta te ne serve Ragazzi, perché ho visto un muso volare? Ragazzi, insieme Oh, c***o Regi, ma c'è un'altra ragazza Aiuto Sultano, Sultano Mangula a sordi, che le strabucchi Oh, che c***o No, queste erano illegittima di difesa Tu l'hai visto, eh Mi stava mettendo il Corano al contrario Ho dovuto difendermi E' fatto bene, sta per evitare un demone Ma lo facciamo Sono vivo No, il grano, il grano, il grano E ho capito Sultano Ragazzi, dietro Raga, dietro No Aiuto Ti senti triste Buttati No, no Musso, non penso che sia un consiglio Brother, ognuno deve seguire i propri istinti Non sono nessuno Sì, ma prima ti darei soldi qualcosa Scusami, in testamento Rage Rage, rage, rage Io sono veramente stufo Ah, ma sei due No, io non ho capito come funzionano le palle di neve Non è finito Ma raga, mi devo riparare la spada Cosa? Cosa? Oddio Oddio Oddio, 671 Sono appenentato e non sento un cazzo Puffa tua È la palute Mamma mia È proprio troppo forte Lui mi sa Lui no È una torretta dentro di me È una torretta dentro di me Chi ha toccato la sacra rana? Io no Io no La sacra rana è qui dietro? Ah, è questa la sacra? Se tu la tocchi, la rompi e la spacchi Io ti giuro che te la farò pagare Ma veramente Non c'è anche altra per esempio No, no No, non c'è E se l'aveva detto E l'ha detto, eh Uomo ha avvisato mezzo salvato E questo succede quando tocchi la sacra rana È un modo a cazzi suo Andiamo nel nether, andiamo nel nether Oh cavolo Oddio Ma certo che si riproduce una manetta Eh, ma perché la sacra rana è piena di verità Guarda, ci sono diverse adesso rane Ragazzi, perché alcune rane sono tipo fermi immobili in alto? Ma sembra tipo qualche piaga d'Egitto questa Muso? Io non le toccano le rane Ah, ok E niente Sono in casa mia Hai potuto decidere se ce ne devono essere dieci o mille Eh, vedi E' di merda Ci si fa male a purgarle Meglio non toccarle Rejek, non è che mi dai una botta? Ma tutti voi che l'avete toccatendo Ah, io? Puoi salvare la pallida di Gianco solamente tu Ma hai fottuto tutto il bestia di cibo No, 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 non ho fatto niente Ma come faccio a beccarti il cibo? Ma che vuota Mi dammi Mi hai preso la spada Mi hai preso la spada brutto Ma come faccio? Non posso Non l'hai preso No Sali, 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 sali Ma siamo in tre, non siamo in cinque Mamma mia, Rage Ma Rage, sei veramente una persona orribile, sai? Tu lo sai che sarà il mio nome, questo sottomarino Ma tu lo sai vero che hanno aperto il ristorante Si chiama Five Guys Buonissimo Oh no Rage Hai sentito? No, di nuovo Rage no Tieni un secchio d'acqua in mano Non ce l'ho, Rage, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho Ma come non ce l'ho? Non ce l'ho, non ce l'ho Andiamo, ragazzi Andiamo Andiamo subito nel nene Andiamo subito nel nene Andiamo subito nel nene Andiamo subito nel nene Quanto riti si è spento davanti Sì Sì Lui non sa i tricks Lui non sa i tricks Rage, andiamo, andiamo a dargli una mano Andiamo Ma si è spento qua No, Rage, tornai nel portale, tornai nel portale Eh, ragazzi Sì? Eh, io non c'ho più nulla Ma il Warden è qua dietro, lo sai? No, 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 che Warden? Quello lì è Nova Ah, è Nova? È Nova, è Nova Ah, ok, ok Suga 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 come on, come on, come on